PIEVE DI BONO FIEMME Dopo la vittoria in casa per 2-1, il Fiemme va a giocare in trasferta per difendere il risultato e cercando magari un gol che sarebbe importantissimo. Il Pieve di Bono può però contare sul pubblico per sognare la rimonta. Un caldo saluto agli amici da casa, questa è Pieve di Bono Fiemme, semifinale di ritorno di Coppa Provincia di prima categoria. La formazione di casa è chiamata a ribaltare il 2-1 dell'andata. Tutto pronto? Si parte, inizia la partita. Fallo laterale per il Pieve di Bono, va a cercare Panelatti, poi scambia ancora col compagno, vuole cercare il cross di sinistro, poi di destra, poi di sinistro. La mette in mezzo per Salvotti, Giuliano, Salvotti, batte, Simone Dell'Addio e firma un avvantaggio. Questo è un gol pesantissimo. Punizione dai 25 metri, la posizione centrale, va a battere Giorgio Franceschetti, che di sinistro la mette all'incrocio e manda invisibilio il pubblico. Questo è un gol pesantissimo. La sinistra, la forza, prova a cercare il pallone in mezzo per Tommaso Varisco. Prova a girarsela sul destro, poi torna indietro, si gira, prova a entrare in aria, va giù, l'arbitro si avvicina, è solo simulazione e viene anche ammonito. Inizione da lontano, va a battere sul secondo palo, clamoroso errore. Combinazione centrale per il Fiemme, la palla arriva a Varisco, serve il compagno, scarica il destro, Esposito vola e gli dice di no. No, pallone laterale, pallone avanti, ma il difensore intercetta. L'arbitro fischia la fine, si va a riposo con il 2-0 per il pieve di Bono. Tutto pronto, si riparte con il Fiemme in possesso, inizia il secondo tempo. Punizione decentrata, Varisco Tommaso, sono molte le soluzioni. Va a battere la forza, a sorpresa! Presa, e firma un gol pesantissimo, che manderebbe la partita ai calci di rigore. Accorcia il Fiemme, con la forza. Pallone davanti a cercare il compagno, la difesa respinge, ma il pallone rimane lì. Servito varisco in posizione centrale, guarda anche la porta, serve Valle, Valle, di destra incrocia! Pallone appena fuori. Cerca spazi, serve a sinistra rosa, può puntare l'avversario. Mette un cross in mezzo di sinistra interessante, il pallone rimane lì, la difesa non spazza. Filosi! Pallone appena fuori. Penetrazione centrale, resiste al contrasto, va a cercare un compagno che scaccia sul filo del fuorigioco. È in posizione regolare, la controlla, guarda in mezzo, serve Poletti! Che manca da due passi, ma attenzione il pallone rimane lì. Ancora il pallone, la difesa spazza, che occasione! La forza, prova a girarsi, cerca idee. Va a servire Tomasi, la vicino, l'imbucata centrale per Valle, Valle controlla, il pallone rimane sotto. Esposito controlla e para. Prova a cercare spazi, ma deve resistere alla carica. Va giù ma l'arbitro non fischia fallo. L'arbitro fischia la fine e manda la partita, ha i calci di rigore. Si incarica della battuta Omar Bazzoli. Va a battere con il destro! Simone Della Dio intuisce e para! Il primo rigore del fiemelo andrà a battere Samuele Della Dio. Parte di destro! Spiazza il portiere! 1-0 fiemme! Questa volta va a battere Dino Filosi. Parte di destro! Spiazza Simone Della Dio! 1-1 Questa volta va a battere di sinistro! Parte! Spiazza anche lui il portiere! 2-1 fiemme! Questa volta è il turno del capitano, Dante Pizzini. Va a battere di destro! Spara a lato! Errore! Pieve di Bono! Si incarica della battuta Marco Tomasi. Parte di destro! La mette sul lato del portiere ma Esposito non ci arriva! Gualdi non può permettersi di sbagliare. Parte di destro! Spiazza ancora Della Dio! La partita è ancora viva! Momento decisivo. Parte la forza con il destro! Esposito intuisce ma non ci arriva! E allora il fiemme va in finale di Coppa Provincia battendo il Pieve di Bono al calcio di rigore!